è bello questo panorama è veramente fantastico salve a tutti siamo arrivati a venerdì si chiude questa settimana il vuo di oggi allora incominciamo con il riscaldamento prima di tutto dove avremo una banded shoulder opener quindi lavoreremo con l'elastico per aprire le spalle un borgner warm up e un ulteriore riscaldamento specifico per i jerk visto che questo è il movimento che andremo a fare dovremo infatti subito dopo andare a costruire un heavy single di jerk per quanto riguarda il vuo di oggi sono 4 round dove for time ovviamente dove faremo 21 calorie throw 15 deadlift e 9 push jerk come al solito tutto sta nella grafica ciao a domani